Ciao a tutti ragazzi, come sempre sono in un campo da calcio ad allenarmi e ad inseguire i miei sogni. Volevo ringraziarvi in particolare a tutti quanti, a tutta Italia, perché grazie a voi sono stata selezionata come prima miss dell'anno. E niente, volevo mandarvi un bacio grandissimo, grande, 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 però dobbiamo continuare sempre così perché comunque le tappe continuano e non bisogna arrendersi mai. E ricordatevi che con umiltà si andrà sempre avanti nella vita. Un bacio grande a tutta Italia e buon anno nuovo!